Prosegue il corso introduttivo ad Adobe After Effects, stiamo trattando le basi, le fondamenta di questo software, è un corso base, lo ripeto, quindi se siete già bravi ed esperti non è il corso che fa per voi, se siete alle prime armi invece questo è il corso perfetto per voi. Siamo ormai ad una lezione un po' avanzata, quindi se volete recuperare le lezioni precedenti potete andare sul sito internet www.fabbiambrosi.it, lì troverete ovviamente l'indice completo di tutti gli argomenti che abbiamo trattato e che tratteremo in questo corso, oppure potete venire qui sul canale YouTube, cercare tra le playlist e tra la playlist del corso introduttivo ad After Effects o tra i video e recuperare le lezioni precedenti. Bene, iscrivetevi ovviamente a questo canale YouTube se vi fa piacere, se volete restare aggiornati anche sui prossimi video tutorial e sui mini tutorial che partiranno il 13 di aprile. Torniamo a noi, abbiamo visto nella scorsa lezione come posizionare in maniera precisa gli oggetti all'interno della nostra composizione in After Effects. Bene, ipotizziamo adesso di avere più cerchi, ok? Quindi ho duplicato il cerchio di prima con i tasti CTRL D, ipotizziamo di avere una situazione come questa, ok? Olè. Bene, ipotizziamo che io abbia voglia di allineare questi cerchi in maniera precisa l'uno dall'altro, ovvero voglio fare in modo che questi quattro cerchi siano perfettamente allineati in maniera tale che siano tutti alla stessa altezza. Come fare? Beh, potrei farlo ad occhio, ma sapete bene che l'occhio umano non è proprio uno strumento su cui fare affidamenti in questi casi, soprattutto se andiamo di fretta e vogliamo essere precisi. Bene, in After Effects c'è un tool, uno strumento, un pannello meglio ancora, che ospita gli strumenti, allinea livelli e disponi livelli. Di norma si trova qui in basso, sulla destra, a fianco alla vostra timeline, ma dipende, dipende dalla versione di After Effects che avete, dipende da come avete organizzato il vostro lavoro, ripristino chiaramente l'area di lavoro alla sua condizione di default. Questa è la condizione di default di quest'area di lavoro, per esempio, vedete che non è presente il pannello per allineare gli oggetti. In questi casi, per abilitarlo, per vederlo, basta andare nel menu finestra, cercare la voce allinea, cliccarci sopra e vedete che viene aperto il pannello, qui sulla destra, per utilizzare gli strumenti di allineamento. Benissimo. Ora, se io volessi allineare questi cerchi esattamente tra di loro, innanzitutto dovrei selezionarli, perché è la prima cosa da fare, selezionare gli oggetti che io voglio allineare. Successivamente devo fare una scelta. Io voglio allineare questi oggetti rispetto a loro stessi o rispetto all'intera composizione. Che differenza c'è? Bene, di default, vedete qui c'è un menu a tendina che mi tiene abilitata la voce composizione. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io vado ad allineare questi quattro cerchi rispettivamente alla composizione, e per la precisione, se io volessi allinearli in basso, ok, allinea in basso, e clicco, guardate cosa accade. Bam! Questi quattro cerchi vengono allineati esattamente al punto più basso dell'intera composizione. Viceversa, se io volessi allineare questi quattro cerchi in alto, quindi al punto più alto della mia composizione al bordo superiore, clicco sullo strumento allinea in alto, e questi quattro cerchi vengono allineati sul punto più alto della composizione. Sono allineati, ma ipotizziamo che io ho questi quattro cerchi, esposti in maniera confusionale, così, ipotizziamo che io voglio allinearli non rispettivamente alla composizione, ma voglio allinearli, non so, ad esempio al punto più basso di questa selezione. Li seleziono, il punto più basso è questo, vedete questa linea immaginaria che parte dalla tangente del cerchio più basso. Io voglio allineare questi quattro oggetti, non rispetto alla composizione, ma rispetto a loro stessi, e in particolar modo al punto più basso della selezione, quindi in questo caso questo punto qui. Bene, come devo fare? Ovviamente devo impostare questo strumento perché tenga conto non della composizione, ma della selezione. Ok? Quindi ho selezionato lo strumento allinea rispetto alla selezione questa volta. Quando andrò a cliccare il bottone allinea in basso, guardate cosa accade. Bam! I quattro cerchi vengono allineati prendendo come riferimento la selezione, quindi loro stessi, e ancora una volta come punto di riferimento, non la composizione, ma il punto più basso, allinea in basso, ovvero il punto più basso che era questa tangente che parte dal cerchio che si trova più in basso nella disposizione. Al contrario, ipotizziamo di avere sempre questi quattro cerchi, collocati in maniera casuale, e di volerli allineare rispetto al punto più alto, non della composizione, ma della selezione, ovvero di loro stessi. Sempre con la voce selezione evidenziata, clicco sul tastino allinea in alto, e vedete che questi quattro cerchi vengono allineati rispetto al punto più alto della selezione. Non solo, questi quattro cerchi posso allinearli al centro, rispetto alla loro selezione, posso allinearli a sinistra, quindi tutti i cerchi vanno a sovrapporsi, perché chiaramente abbiamo selezionato la modalità selezione, oppure a destra. Se avessi selezionato la modalità composizione, vado ad allineare tutti questi quattro cerchi a sinistra, rispetto alla composizione, quindi guardate, eccoli qua, vengono allineati sulla sinistra. Ancora una volta, un'altra prova, li allineiamo a destra, stesso risultato. In questo caso, vedete, non viene preso in considerazione l'anchor point, come abbiamo detto nella lezione precedente, ma questo bordo immaginario che circonda l'oggetto, ok? C'è un'altra funzione molto utile, che è la disposizione. Immaginiamo di voler disporre non questi quattro cerchi, ma di più, esageriamo, duplichiamoli, ne abbiamo otto di cerchi, wow, sono tantissimi. Facciamoli un pochettino più piccini, in maniera tale da poterli disporre in maniera più evidente nella nostra composizione. Vogliamo disporli in maniera esatta, in maniera che tra l'uno e l'altro ci sia la stessa distanza. Come fare? Bene, intanto selezioniamoli e allineiamoli rispetto al punto più basso, non della composizione, ma della selezione. Olè, sono allineati tra di loro. Ma io voglio fare in modo che ogni cerchio abbia l'un l'altro la stessa distanza. Bene, intanto prendiamo il primo cerchio e collochiamolo allineandolo al punto più estremo della composizione. Stessa cosa, prendiamo il cerchio di destra e allineiamolo al punto più estremo della composizione. Selezioniamo tutti i cerchi adesso, questa volta, e utilizziamo la seconda fila di strumenti, gli strumenti di disposizione. Abbiamo tra questi strumenti di disposizione questo bottoncino che ha l'etichetta chiamata distribuzione, distribuisci in orizzontale. Proviamo a cliccarlo e vediamo cosa accade. Bam! Tutti i cerchi vengono in questo modo allineati l'un l'altro, in maniera tale che tra di loro resti sempre la stessa identica distanza. Questo è uno strumento molto comodo perché ci permette appunto di essere estremamente precisi, di non fare le cose ad occhio, ma di fare le cose in maniera praticamente matematica. Bene, nella prossima lezione parleremo delle griglie e dei righelli, perché come quando andavamo a scuola utilizzavamo il righello e la squadretta per tracciare delle linee precise e per organizzarci nello spazio, anche in After Effects, così come tra l'altro in Photoshop e di recente anche in Premiere, c'è la possibilità di avere un righello per tracciare delle linee guida su cui collocare e disporre i nostri livelli. Ne parleremo nel prossimo video tutorial. Per il momento vi ringrazio. Vi rimando al sito internet www.fabbiambrosi.it per l'indice degli argomenti di questo corso introduttivo di After Effects. Se vi fa piacere iscrivetevi e accendete le notifiche a questo canale YouTube per non perdere i prossimi video tutorial. Dal prossimo 13 aprile inizieranno i mini tutorial, tutorial brevi di 3 minuti in cui affronteremo diversi argomenti sia di Premiere che di After Effects che di Photoshop che di Audition, quindi alle 14 dal lunedì al venerdì dal prossimo 13 aprile. Se vi fa piacere per tutte le informazioni e gli annunci cercatemi su Facebook, mettete un like alla pagina Fabio Ambrosi. Grazie a tutti, ancora una volta al prossimo video tutorial.